Però poche ciance. Questa è un'altra Leopolda. Il luogo è lo stesso, è fisicamente lo stesso, ma noi siamo al Governo. Io sono al Governo, noi siamo al Governo. E se siamo al Governo non è per stare lì a occupare la seggela, a scaldare il posto. Non siamo al Governo per mantenerci al Governo. Non siamo al Governo semplicemente per consolidare noi stessi. Ci tocca cambiare il Paese, amici della Leopolda, perché l'abbiamo voluto noi, perché ce la siamo cercata. Non è una bicicletta che ci è passata, ce la siamo andati a prendere. Ora è arrivato il momento di prenderci terribilmente sul serio. Prenderci terribilmente sul serio non significa non perdere la voglia di scherzare, di sorridere. Non significa perdere la voglia di scherzare e di sorridere. Non significa smettere di divertirci. E non significa neanche smettere di dire le cose divertite.